Dalla millenaria tradizione macrobiotica deriva una lettura energetica degli alimenti, in termini di yin e yang, che a livello pratico si può tradurre con l'introduzione di ingredienti terapeutici, particolarmente salutari, non presenti nella cucina mediterranea tradizionale. Lo ha fatto sapere l'associazione La Grande Via, fondata e presieduta dal dottor Franco Berrino al Corriere della Sera. Gli alimenti consigliati sono il miso, le umeboshi, la salsa tamari e quella shoyu. Questi cibi ci aiutano notevolmente a migliorare la nostra salute, equilibrando un'alimentazione prevalentemente vegetale, più yin, con la loro qualità salata, più yang, hanno spiegato dalla Grande Via. Al contrario, alimenti estremamente yang e molto diffusi nella nostra quotidianità, come salumi, carni rosse e formaggi, vanno assunti il meno possibile, ha avvertito l'associazione.